I prodotti tipici con Castelluccio di Norcia e un saluto a tu sei? Io Michele, Michele di Norcia. Allora Michele, come ti trovi a questa iniziativa qui all'Expo Regalo? Benissimo, però ci vuole l'aiuto dello Stato, che se no siamo fatti. Senti, e che cosa presenti qui? Naturalmente i prodotti tipici, vero? Esatto, formaggi, salumi, lenticchie, roveglia, farro, queste cose così. Senti, e con te c'è anche la tua famiglia quindi oggi? No, mia moglie resta a casa, lavoro solo io.